Musica Per me il futuro dell'agricoltura sarà qualità e sostenibilità a tutto campo. Per me il futuro dell'agricoltura sarà la programmazione di filiera. Per me il futuro dell'agricoltura passa dall'aggregazione, dalle parti tra la produzione e la gran distribuzione, quindi il consumatore finale. Per me il futuro dell'agricoltura sarà la lotta ai cambiamenti climatici. Per noi il futuro dell'agricoltura è nella valorizzazione di tutta la filiera. Per me il futuro dell'agricoltura sarà un'opportunità da non perdere. Per me il futuro dell'agricoltura è ecosostenibilità e tradizione. Per me il futuro dell'agricoltura sarà sostenibilità. Il futuro dell'agricoltura per me sarà la qualità. Secondo noi l'agricoltura del futuro sarà coltivare prodotti sempre più buoni nel rispetto delle persone e della nostra terra. Per me il futuro dell'agricoltura sarà sintonizzarci sempre di più con le aspettative dei consumatori. Per me il futuro dell'agricoltura sarà nella ricerca e nella innovazione. Per me il futuro dell'agricoltura è l'innovazione varietale. E per noi il futuro dell'ortofrutta sarà il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione. Il futuro dell'agricoltura? Frutti più sani, meno belli, buoni al quadrato. Il futuro dell'agricoltura è un vero patto della filiera in cui ogni attore si assume la propria responsabilità. Per me il futuro dell'agricoltura è il rispetto e la tutela dell'ambiente. L'agricoltura del futuro dovrebbe garantire accessibilità in ugual misura per tutti a salubrità e qualità del prodotto. Per me il futuro dell'agricoltura è una produzione sostenibile. Per me il futuro dell'agricoltura è una produzione sostenibile.